post 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 milan inter post derby che soddisfazione amici che soddisfazione in questo canale si parla anche di calcio si parla anche di inter la mia vecchia passione e finalmente quest'anno dopo tante delusioni siamo in vetta e chissà adesso si parla di fuga amici si parla di fuga ma che ma che derby ma che bella che bella partita li abbiamo dominati dal primo all'ultimo minuto il milan ha avuto due occasioni all'inizio del secondo tempo signori miei ma l'inter ne ha avuto e almeno 10 per non dire di più questa partita è finita 3 a 0 per l'inter ma poteva finire forse non lo so 8 a 2 7 a 1 veramente guardate siamo andati a un pelo a un pelo da da seppellire il milan sotto una valanga di gol che ha visto la partita deve convenire deve convenire che è stata una partita pressoché perfetta ma voglio voglio dire che tutta la squadra è stata perfetta una citazione in particolare l'autaro secondo me il migliore in campo comunque l'autaro l'autaro che è stato un'ira di dio a parte la doppietta ma un'ira di dio su tutte le palle poi lukaku lukaku mamma mi il terzo gol una strapotenza fisica amici una strapotenza fisica ma veramente come si può una difesa impeccabile un perisic ritrovato un perisic ritrovato ma una gamba che praticamente si è fatto tutta quella fascia ha fatto un lavoro di copertura ma ha giocato bene anche eriksen e per non parlare di barella barella se si è spolmonato per 90 minuti e andanovic andanovic ha fatto due tre parate amici miei due tre parate delle sue veramente veramente non posso trovare un giocatore oggi che vada sotto il 6 e mezzo o sotto il 7 quasi perfetti tutti quindi noi andiamo a più 4 sopra il milan e facciamo questa mini fuga io credo che la vera avversaria per lo scudetto rimanga la juve sempre la juve io ho paura della juve perché poi parliamoci chiaro la juve ormai ha già vinto con il crotone perché giocherà lunedì con il crotone penso sia una pura formalità visto che il trotone ultimo in classifica e adesso adesso vedremo le altre partite vedremo il napoli l'atalanta la roma vedremo un po cosa faranno le altre noi abbiamo fatto questo boom viatico e quindi non mi rimane altro ecco esprimere la mia contentezza la mia gioia perché questo diciamo è l'ultimo obiettivo che ci rimane vedete dopo tante polemiche anche a livello societario si dice che suning deve vendere perché non c'ha soldi le trattative con pc partners che non si concretizzano i stipendi addirittura stipendi non pagati da novembre c'è un po di caos ora conte che che se ne dica ha avuto anche diciamo il merito di creare un gruppo coeso omogeneo che si è compattato al di là di tutte queste di queste problematiche e si vede e si sente si vede nel gioco e si sente anche in mezzo al campo anche fuori dal campo anche quando ci sono le sostituzioni giocatori che si abbracciano che si incoraggiano a vicenda quindi ma certamente siamo in presenza di un buon gruppo di giocatori un ottimo gruppo di giocatori che hanno trovato coesione e volontà forza rabbia fame fame di poter vincere qualcosa di importante che sarebbe lo scudetto non sarà facile amici me sappiate che non sarà facile ci sarà una lotta fino all'ultima giornata però noi ci siamo questo è quello che volevo dire ci siamo e lottiamo e possiamo dire ecco quest'anno di essere osgogliosi perché al di là di un po di sfortuna nelle coppe però adesso ci siamo ci odiamo la vittoria e possiamo cantare salutate la capolista salutate la capolista eppure la capolista se ne va e se ne va la capolista se ne va abbiamo fatto una reaction insieme agli amici e mio figlio che ve la dovete vedere sul canale di mio figlio gianluca castellana che secondo me sarà una cosa memorabile ma veramente bella ok ciao a tutti alla prossima forse inter